La prima volta che uscite da questa quarantena? Sì, giusto per fare due passi, per rivedere il mare dopo quasi due mesi. Sembra un sogno poter essere all'aria aperta nuovamente. Due mesi che non vede il mare. Bravo! Siamo tutti contenti, logicamente con le giuste precauzioni, però veniamo a fare una passeggiata, a muoverci, perché fa bene anche prendere il sole. Siamo andate a fare la spesa e ne approfittiamo per fare una passeggiata di ritorno sulla spiaggia. Che aspettative avete per questa estate, insomma? Speriamo di poter andare al mare in sicurezza e tranquillità. Nel momento assaporiamo un po' di mare, facciamo un po' di movimento all'aria aperta, che fa sempre bene. Pensa che qualora si possa andare in spiaggia sotto l'ombrellone, lei si è tranquilla oppure qualche timore ce l'ha? Oddio, secondo me ci si sta organizzando bene in tutti i settori, noi italiani. Quindi no, credo che una volta che si apre vuol dire che sia responsabili e sicuramente andrà bene. Andrà bene, ecco, questo è il caso di dire che andrà tutto bene. Una giornata attesa, desiderata, agognata, quella di oggi per tutta Italia. Una giornata attesa come si aspetta il sole, dopo un violento acquazzone nella speranza di vedere poi, tra i raggi del sole, comparir l'arcobaleno. La città, i parchi, le aree verdi, ma soprattutto, per quelle affacciate sul mare, le spiagge, sono diventate il luogo dove è celebrale la rinascita, anche se consapevole e con tutte le precauzioni del caso. Anche a Pesaro, come in altre città e località marchigiane, si è celebrato questo rito sotto gli occhi vigili delle forze dell'ordine, attente all'osservanza comunque delle disposizioni per far sì che questa fase 2 parta col piede giusto. La situazione al momento direi che è abbastanza tranquilla, sotto controllo, abbiamo un elenco di parchi da controllare. Quindi possiamo dire pesaresi abbastanza rispettosi delle regole? Sì, direi almeno al momento senz'altro, ripeto, adesso il controllo è il primo giorno, ovviamente, tra l'altro non è terminato perché i parchi, i giochi sono tanti, però al momento veramente direi che la situazione è ottimale. Dopo la guerra in trincea dei mesi scorsi degli ospedali e dei reparti intensivi dove il personale sanitario ha lottato all'arma bianca contro questo nemico invisibile, da oggi i campi di battaglia contro il coronavirus sono i luoghi simbolo della riapertura, le strade, i parchi, le spiagge, i cimiteri dove è stato possibile oggi tornare a portare un fiore sulla tomba dei propri cari e a tenere sotto controllo tutti questi luoghi e a regolamentarne la loro fruizione in sicurezza, ancora una volta il grande cuore dei volontari che anche in questo caso si sono messi al servizio dell'intera comunità. È abbastanza sotto controllo, abbiamo visto molto più movimento in giro chiaramente come traffico, come anche persone che sono uscite a farsi la loro passeggiata, molte più persone con i bambini giustamente che portano fuori i piccoli a prendere una boccata d'aria e tutto quanto. Adesso non so quale sia la situazione reale del parco perché io non ci sono andato, perché abbiamo controllo anche del parco Miralfiori, ma ancora è abbastanza bene. E qui al parco Miralfiori la situazione com'è? Per ora è molto calmo, però ancora è abbastanza pressiva e oggi ci sarà più gente. Ma in questa giornata colma di euforia non ci si poteva scordare di chi non c'è più, di chi purtroppo la guerra contro il virus l'ha persa. E così Matteo Ricci è andato al San Decenzio nel giorno della riapertura dei cimiteri. In fascia tricolore il sindaco ha deposto una rosa sulla tomba di Andrea Rossi, scomparso a 46 anni lo scorso 8 marzo con i sintomi del coronavirus. Grande tifoso della visse e della VL, affetto da sindrome di Down, era conosciuto da tutta la città e frequentava il centro diurno T41. Scusate